Nessuno controlla la bomba! Prendiamola! Ho avvistato un elicottero nemico! Ecco le munizioni! Casta una granata di oga! Dato nemico localizzato! What the fu- Abra! Fulta è caduta! Vile a leggerla! R Uno è caduta! R Uno è caduta... R Uno è caduta! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.